buona giornata con l'almanacco barba nera oggi è il 20 agosto si ricorda san bernardo di chiara valle il nome bernardo deriva dal germanico bernhard composto dai termini bern orso e hard forte significa quindi forte come un orso o orso coraggioso dice il proverbio acqua d'agosto da castagne e mosto sono nati oggi luciano de crescenzo carla fracci a risa il 20 agosto 1960 viene inaugurato a fiumicino il nuovo aeroporto leonardo da vinci che accoglierà alcuni voli charter fino all'apertura ufficiale nel gennaio successivo nel 1977 la nasa lancia la voyager 2 una delle prime sonde spaziali esploratrici del sistema solare esterno ancora oggi in attività infine il 20 agosto 1991 oltre 100.000 persone si radunano fuori dal parlamento sovietico protestando contro il colpo di stato che ha deposto il presidente michael gorbaciov pablo picasso ha detto cerco sempre di fare ciò che non sono capace di fare per imparare come farlo arrivederci da barbaniera dal 1762 l'almanacco più amato d'italia